Ciao, benvenuto in questo nuovo video velocissimo nel quale, come avevo già anticipato, aggiorno i miei rendimenti, quindi del mio conto real, quindi andiamo a vedere l'equity line. Allora, strappoliamola qui in diretta, tra virgolette, nel video, il periodo era 1 giugno 2013, oggi è l'11 giugno, non il 13, non so perché mi segna 13, comunque facciamo fino ad oggi, va bene, confermiamo, salviamo l'equity. L'andiamo a salvare nella cartella Sistema Forex, va benissimo, chiamiamolo sempre Sistema Forex, e salviamo. Apriamo la cartella, che è cartella Sistema Forex, oggi 11 giugno 2014, l'equity è qui. Apriamola. Ok, questa è quindi l'equity line di rendimento praticamente di oltre un anno, quindi da 1 giugno 2013 fino all'11 giugno 2014, quindi sono in totale 607 operazioni, ok? E quindi questo qua non è nient'altro che l'aggiornamento. Sono riuscito a fare, fortunatamente, perché quando si riesce non è la regola, è un po' di interesse composto, quindi a non ritirare. Se vogliamo andare a vedere anche quelle che sono le posizioni a mercato, semplicemente ho, in questo momento io sono in vacanza praticamente, quindi sto facendo un po' di position trading, cioè ho stacco dall'intraday stretto, ogni tanto ci vuole, quindi sto facendo un po' di posizione, e ho in pratica tre posizioni aperte. In questo momento, quindi sono in posizione con queste tre, le guardo ogni tanto, quindi non ci devo badare. Questo quindi è quanto, ti auguro un buon proseguimento e alla prossima. Ciao!